Francesco Cuzzola, dottore commercialista originario di Reggio Calabria, laureato in economia e commercio e specializzato in management delle pubbliche amministrazione, il nuovo assessore tecnico della giunta di Lillo Firetto. Il dottor Cuzzola, che ha un bagaglio di esperienze professionali notevoli rispetto alla sua giovane età, 35 anni, in tema di contabilità e bilanci degli enti locali, subentra Massimo Muglia, che cede il testimone dell'impegno diretto, anche se non mancherà di continuare a dare da esterno il suo contributo all'amministrazione comunale. Ho preso parte in queste ultime settimane con notevole partecipazione emotiva, scrive Muglia, nella lettera sindaco, agli sforzi dell'amministrazione per pervenire alla migliore risoluzione di un problema di natura tecnico-finanziaria che necessitava di grande attenzione, professionalità e presenza, avendo più volte convenuto con Lillo Firetto che sarebbe necessario ricorrere ad una professionalità alta e possibilmente lontana dalle implicazioni di natura localistica. Considerate anche le difficoltà finanziarie e ragioni di opportunità, continua nella lettera al sindaco Massimo Muglia, avevo più volte suggerito la mia disponibilità immediata a rinunciare all'impegno diretto, qualora fossimo riusciti ad individuare una figura idonea ad accompagnare l'ente in questa delicata fase. Francesco Cuzzola, autore di studi e pubblicazioni di natura fiscale per il gruppo Maggioli, azienda che si occupa dello sviluppo di prodotti e servizi per la pubblica amministrazione, si è specializzato tra l'altro nella gestione e nella salvaguardia degli equilibri di bilancio nelle pubbliche amministrazioni. Grazie. Grazie. Grazie.